Ciao, sono Lorenzo, mi sono laureato in giurisprudenza ormai un anno fa all'Università degli Studi dell'Insubria e oggi faccio il praticante avvocato in uno studio legale e mi occupo principalmente di diritto commerciale. I cinque anni in Insubria sono stati fondamentali tanto per la mia crescita personale quanto per la mia crescita professionale. In particolare ho avuto l'opportunità di andare in Erasmus, in Irlanda, e migliorare tantissimo il mio inglese che oggi utilizzo tutti i giorni nell'ambito della professione. Ho avuto la possibilità di fare uno stage in tribunale che mi ha permesso di capire che cosa mi piaceva veramente e di scegliere con più consapevolezza quello che potevo fare. Insomma, se oggi faccio quello che faccio è sicuramente grazie all'Insubria.